Dica 200 è il numero all'orizzonte per Mirko Antenucci, capocannoniere del Bari, nella prima parte di stagione con 10 gol in campionato. Un fatturato che da agosto del 2019, momento dell'arrivo dell'attaccante molisano in bianco-rosso, ha portato a 48 le reti con 12 assist in 88 partiti ufficiali. Oggi Antenucci è l'uomo copertina di una squadra che si è impadronita del primo posto nel girone C di Serie C e non vuole mollarlo. A 37 anni ha ripreso a correre come un ragazzino e a segnare come fatto a qualunque latitudine in carriera, dai centri inglesi con la maglia dell'Izza al trono di capocannoniere in B con Lascoli, dal Torino alla Ternana fino alle 17 reti in due stagioni di Serie A con la Spal. Sono 199 in totale in carriera i centri, rischiavano di essere 200, ma Antenucci nell'ultima partita del 2021 ha deciso di cedere il rigore del 2-0 contro il Potenza ad Enrico e ora lo cercherà contro il prossimo avversario che coincide con il suo passato. Il nastro si riavvolge, estate 2007 il Catania acquista Antenucci dal Giulianova in C e lo gira in prestito al Venezia, un anno di esperienza per tornare in Sicilia nel 2008 con esordio contro il Genoa. Quella prima volta Catania non è andata secondo le attese, a gennaio dopo quattro presenze l'allora 24enne di Termoli fu girato in prestito prima al Pise e poi all'Ascoli. In bianco nero vive la stagione più prolifica della sua carriera, 24 gol in 40 presenze che valgono il pass per il ritorno a Catania. Altro giro, altra corsa a luglio del 2010, dopo un avvio promettente però Antenucci prepara di nuovo le valigie. Addio all'isola per un anno e mezzo a Torino, sponda Granata. Ad agosto del 2012 l'ultimo ritorno in Sicilia, in tempo per scendere in campo nell'ultimo quarto d'ora di Roma-Catania, terminata 2-2 all'Olimpico, fine corsa con 24 presenze ufficiali e tre reti. Alle pendici dell'Etna Antenucci non ha trovato quella che a Bari è diventata una parola chiave, stabilità. La sua strada però non è stata delle più semplici, soprattutto nella scorsa estate. Dopo un primo semestre di 2021 caratterizzato dal fallimento play-off e con sole quattro reti, l'attaccante, nato nel 1984, si è rimesso in discussione. Prima ha accettato di spalmare il suo ingaggio su due stagioni, prolungando il contratto con il Bari fino al 2023. Poi ha accettato di non essere un titolare inamovibile. Se in panchina ci va lui, possono andarci tutti, il manifesto virtuale affisso da Mignani negli spogliatoi. E il lupo di Roccavivaria si è ripreso spazio a suon di giocate e gol. Da fine ottobre ad oggi sono stati otto in nove partite, per un totale di dieci centri stagionali. Bastano questi numeri per sintetizzare il nuovo Antenucci, che ora punta quota 200 e lo farà già contro il suo passato.